Si chiama Aerostretch, è una lezione composta con mezz'ora di aerobica e mezz'ora di stretching. La mezz'ora di aerobica è ad alto impatto, quindi bruci tantissime calorie, ti diverti perché alla fine balli, un po' diciamo stile aerobica anni 80, però senza body. La seconda metà è di stretching, però una prima parte di una sorta di yoga dinamico, dove si continuano a lavorare i muscoli in tonificazione e una seconda parte invece più di rilassamento e di allungamento. Questo perché di solito nel fitness lo stretching era legato agli ultimi 5-10 minuti, quindi vogliamo permettere anche a chi vuole fare aerobica di fare una bella mezz'ora di stretching e di allungarsi come si deve. La prima mezz'ora è esplosiva, ci si muove super aerobica, super saltata. Intanto ci andiamo grado per grado, step by step, nel senso che non tronchiamo proprio del tutto l'aerobica, ma pian pianino con un po' di yoga dinamico andiamo a creare un intermezzo. E poi sicuramente il fatto che appunto di solito il muscolo si accorcia, si accorcia, si accorcia, in queste lezioni non c'è mai il tempo per allungarlo, invece noi abbiamo tutto il tempo per allungarlo al massimo e distenderlo. Sicuramente in pausa pranzo vengono tante ragazze, lavoratrici, tante signore che apprezzano questo tipo di aerobica un po' anche vecchio stile, perché ormai si usano solo attrezzi, pesistica, si fanno circuiti e vogliamo anche ritornare un pochino all'aerobica vecchio stile. Grazie.